Torniamo a parlare di una straordinaria figura di santità. 20 aprile 1993, 20 aprile 2023 sono passati 30 anni dalla morte di Don Tonino Bello. E oggi con noi in studio a raccontarci un po' di Don Tonino e del rapporto che ha avuto con questa grande straordinaria figura. C'è Stefano Bello, nipote di Don Tonino appunto. Ciao Stefano, bentrovato e grazie per essere con noi. Ciao Leonardo, un caro saluto a tutti voi. E' sempre un piacere parlare di Don Tonino, soprattutto in questa occasione così importante, alla luce anche delle commemorazioni che ci sono state nei giorni scorsi relativamente a questo anniversario. Dunque, 30 anni sono passati da quel 20 aprile, una data che ha segnato una sorta di spartiacque, potremmo dire, perché da quel giorno la santità di Don Tonino si è diffusa nella Chiesa. Allora Stefano, vorrei subito chiederti quali sensazioni prova la vostra famiglia nel vederlo additato come modello eroico di virtù. Perché ricordiamolo, Don Tonino, da pochi mesi circa è stato dichiarato venerabile dalla Chiesa. Sicuramente una sensazione bellissima, unica, inspiegabile sotto certi punti di vista, però è anche una grande responsabilità, perché come familiari per primi dobbiamo essere in grado di vivere quell'insegnamento che Zio Tonino ci ha lasciato, questa grandissima eredità che ci ha lasciato. Spesso Leonardo mi chiedono che cosa si prova ad essere il nipote di Don Tonino, no? Beh, io rispondo sempre che più che un privilegiato mi sento un osservato speciale, mi sento. Perché per me Zio Tonino è stato sempre un esempio, una figura alla quale mi ispiro per correggere gli errori con cui purtroppo quotidianamente noi tutti dobbiamo confrontarci. Però per me lui è un faro che illumina la strada quando in qualche modo perdo la bussola, quando devo porre rimedio agli sbagli che poi la dimensione umana ti porta a compiere. Santi, ci diceva sempre Zio Tonino, non significa indossare l'aureola sopra la testa. Santi si diventa vivendo una vita ispirata da valori evangelici, senza sconti, senza commenti, con coraggio, cercando soprattutto il proprio benessere nella felicità degli altri. E a questo proposito Don Tonino è stato un campione, permettimi un po' questa metafora, anche perché Don Tonino amava tanto lo sport e dunque credo che si addica a lui questa definizione. Vorrei però partire in questa mattinata Stefano da un ricordo triste, permettimelo, partire proprio da quel 20 aprile del 1993. Quali ricordi hai di quel giorno e soprattutto cosa è cambiato dopo quel giorno? Beh, c'è una sovrapposizione di emozioni di fatto, se penso a quel giorno, che lo ricordo come se fosse ieri. Io avevo 20 anni, il 20 aprile del 1993 vivevo il mio ventesimo anno. Gioia e dolore si sono mischiati, dolore per la perdita di uno zio importante, di uno zio che comunque avrebbe dato tanto a quella che sarebbe stata la mia formazione futura, il mio percorso formativo. Gioia perché quando uscimmo dalla Chiesa, nel momento in cui varcammo le porte della Chiesa, trovammo una marea di gente pronta ad accogliere il feretro di Zio Tonino, che dimostrò, testimoniò tutto l'amore che in dieci anni di episcopato avevano riversato nei confronti di questo grande vescovo. In qualche modo il dolore è stato mitigato dall'abbraccio di queste persone che si sono strette intorno alla nostra famiglia e sono stato veramente un sostegno importante. Don Tonino ha vissuto la sofferenza come speranza, non a caso le ultime parole sono state, lo abbiamo anche ricordato nei giorni scorsi, rileggendo il testamento e la Pasqua del Signore ed è bellissima. Sono parole straordinarie pronunciate da un uomo in fin di vita che però aveva già gli occhi proiettati a quell'oltre a cui tutti siamo chiamati. Stefano, io vorrei chiederti di raccontarci qualche aneddoto particolare riguardante il tuo rapporto, il rapporto della tua famiglia con Don Tonino. Beh, di ricordi ovviamente ce ne abbiamo tanti, vent'anni sono tanti così da sintetizzare, però ricordo con grande piacere quello che poi è diventato un insegnamento nella mia vita. Lui quando veniva a trovarci nelle pause molfettesi, noi lo aspettavamo con grande gioia perché sapevamo sempre che qualcosa di entusiasmante, di bello sarebbe successo. Poteva essere una partita di pallone, notata nelle acque profonde di Leuca, poteva essere una corsa, una qualsiasi forma di competizione che lui trasformava in aggregazione. Quindi questa era la cosa più bella. Riguardava non soltanto noi familiari, ma anche gli amici che si stringevano intorno a noi per aspettare l'arrivo di Zio Tonino. Dove stava la sua grandezza? La sua grandezza stava non nell'insegnarci, giocare a pallone, a nuotare, ma nel far sentire ognuno di noi unico, irripetibile, importante. Nessuno ai suoi occhi si sentiva secondo. Capisci Leonardo che questo era un meccanismo che sgretolava la rivalità, era un meccanismo che ti insegnava la convivialità, impediva ad ognuno di noi che cercavamo di essere migliori ai suoi occhi di prevalere sull'altro. E allo stesso tempo ci insegnava a camminare insieme, ci insegnava a costruire insieme, ci insegnava a vincere insieme. Ci ha insegnato la convivialità. All'epoca non ci rendevamo conto, però ripensando oggi, a 30 anni fa, ti rendi conto che ci ha lasciato un messaggio veramente importante. In effetti il rapporto di Don Tonino con voi familiari è stato davvero simbiotico, perché voi avete mandato alle stampe recentemente anche un volume dedicato alle lettere che Don Tonino ha inviato ai suoi familiari nel corso della sua giovinezza e nei primi periodi anche del suo sacerdozio. Quale Don Tonino emerge da queste lettere? Eh, qua, infatti lo hai anticipato tu, Leonardo. Di fatto, queste lettere, questo volume, fa trasparire tutto l'attaccamento che aveva zio Tonino alla famiglia di origine, alla madre che sosteneva e condivideva le sue scelte, ai fratelli più piccoli, di mio padre, Marcello, Trifone, e verso i quali nutriva una vera e propria responsabilità paternale, perché avendo perso il padre prematuramente, quindi ha assunto quel ruolo e quindi la preoccupazione costante perché la vita continuasse, perché trovassero un lavoro, perché andassero bene a scuola. Sono delle lettere che di fatto zio Tonino scrive alla nonna e che così, mettendo in ordine, rovistando l'archivio di papà, ho avvertito la necessità di condividere con quanti amano la figura di zio Tonino. Lettere che tracciano poi di fatto un quadro più completo di quella che è stata la formazione culturale e spirituale di un giovane seminarista che si avvicinava alla vita religiosa, consapevole del fatto che non poteva contare sul sostegno fisico della famiglia e quindi si affida alla formula epistolare per condividere gioie, dolori, tristezze, speranze di un'avventura che praticamente poi lo porterà a costruire la struttura, la base di quello che sarà il suo futuro impegno sacerdotale prima ed episcopale successivamente. Quindi è un spaccato di vita familiare. Senza dimenticare appunto quello che poi è stato l'insegnamento che la famiglia di origine di Don Tonino gli ha portato per poi fruttificare, ecco come dicevi tu, anche nel corso dei suoi anni di sacerdozio prima e di episcopato poi. Siamo quasi in chiusura Stefano, abbiamo pochi minuti. L'impegno della famiglia Bello è quella di portare la figura di Don Tonino anche ai ragazzi. Nonostante sono passati 30 anni dalla morte appunto di Don Tonino è una figura che continua ad emanare fascino, ad attrarre, ad essere quasi magnetica. Io direi che una volta conosciuto Don Tonino non si può più fare a meno di conoscerlo ancora di più e quindi in qualche maniera di anche portarlo agli altri anche perché il suo insegnamento nello specifico per trarre un tema di attualità, quello dedicato alla pace è straordinariamente contemporaneo. Quello che voglio chiederti allora è qual è l'eredità che Don Tonino lascia a tutti quanti noi, alle giovani generazioni vista anche la situazione internazionale che abbiamo davanti ai nostri occhi? Guarda Leonardo, Zio Tonino ci ha insegnato che la pace si costruisce in famiglia che è superfluo, è inutile sventolare bandiere, gridare slogan, fare manifestazioni per la pace se poi non siamo capaci di costruire la pace nelle relazioni di tutti i giorni, nei rapporti che abbiamo con le persone partendo dalla famiglia, dalla scuola, dal catechismo, dalla parrocchia. È lì che si fabbrica la pace, è quello il primo luogo dove la pace va ricercata e poi esportarla agli antipodi della terra. Io credo che Zio Tonino ci abbia lasciato una grande eredità che è quella di cercare la pace nella capacità che ognuno ha di noi di perdonare perché il perdono, diceva lui, è un dono di Dio per l'uomo da ricercare in tutti i contesti. Se non siamo in grado di perdonare, non siamo in grado di costruire la pace. È un grande insegnamento quello di Don Tonino. Voglio chiederti anche Stefano, visto che comunque il processo va avanti abbiamo citato il decreto di venerabilità che c'è stato qualche mese fa ora Don Tonino speriamo e preghiamo che si incammini al più presto verso quel riconoscimento ufficiale che poi è la beatificazione e poi successivamente la canonizzazione. Nello specifico la terra di origine di Don Tonino come vive questo rapporto con questo santo dei giorni nostri? Beh, sicuramente con tanto orgoglio, con tanto affetto. Quello che ci aspettiamo, il miracolo, quello che il Cardinale Semeraro, prefetto per la congregazione delle cause dei Santi, ha chiamato il tocco di Dio. Ecco, bisogna che avvenga un fatto scientificamente inspiegabile per intercessione di Zio Tonino. Il territorio è pronto. Abbiamo con umiltà, con dignità, accolto la visita di Papa Francesco. Quindi da anni accogliamo migliaia e migliaia di pellegrini che vengono a visitare i luoghi e ripercorrere i passi di Don Tonino. Sono persone che cercano in lui un vero e proprio esempio, uno stile di vita. Ecco, questo è Zio Tonino per le persone che vengono. Stefano, allora io ti ringrazio di cuore davvero per essere stato con noi in questa mattinata, per averci raccontato un po' di Don Tonino. Ecco, ci vorrebbe molto molto più tempo per andare a scandagliare quelle che sono i tanti aspetti della vita di questo grande santo che è stato davvero Don Tonino Bello. Grazie di cuore Stefano. Grazie a tutti voi. E ora restituiamo la linea alla regia e poi ritorneremo ancora qui insieme. Grazie a tutti.